Che la Sicilia sia sempre stata terra di conquista per Berlusconi non è un mistero e non è un caso che il Cavaliere sia tornato a rievocare il decantato 61-0 delle politiche del 2001. Ad oggi, analizzando concretamente il panorama politico, più che un sogno sembrerebbe un miraggio, ma Berlusconi rimane convinto di poter quantomeno avvicinarsi a un risultato simile. Lo fa riportando in casa Micichè e Lombardo, nemici per un giro, le ultime regionali, e adesso tornati sotto l'ala del Cavaliere. Angelino Alfano mi ha telefonato, ha confidato, comunicandomi che tutti gli accordi sono stati firmati con piena soddisfazione. Riguardo alle aspettative del Cavaliere in Sicilia, non possiamo che spulciare gli ultimi dati certi, cioè quelli riconducibili alle regionali di ottobre. In quel caso PDL, PID, PDS e Grande Sud rappresentano all'incirca il 35% dei siciliani, non considerando tuttavia i problemi interni di Grande Sud e PDS susseguenti all'accordo. Ovviamente il metro delle politiche è completamente diverso da quello regionale, specie considerando la diversa ripartizione tra Camera e Senato e l'astenzionismo record dell'ultima tornata, motivo per il quale i dati riproducono un riscontro puramente indicativo. Secondo Berlusconi, infatti, il primo partito eletto in Sicilia, cioè il Movimento 5 Stelle, subirà un notevole ribasso a livello nazionale, che a suo parere toccherà la soia del 10%. Circa 5 punti percentuali in meno dell'ultima inchiesta visualizzabile nel sito ufficiale dei sondaggi politici ed elettorali, curato dalla Presidenza del Consiglio e dal Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, che vede la coalizione di centro-sinistra in vetta con quasi il 35% e la corrente berlusconiana in seguire con circa 10 punti di svantaggio. L'ex premier ha poi toccato la questione dell'Utri, rimandando la decisione definitiva al proprio comitato di Presidenza per i casi subiudice. Sappiamo che questa giustizia ha proceduto per motivi politici, usando l'arma della giustizia per colpire avversari politici, continua, polemizzando anche con Antonio Ingroia, a suo dire detentore per diversi anni di inchieste delicatissime sulla mafia e portate avanti con la sua testa di uomo di estrema sinistra. Una linea volta a esautorare la magistratura, che forse, come le stragi della nostra terra testimoniano, avrebbe bisogno al contrario dell'appoggio incondizionato delle istituzioni. Berlusconi chiude poi ammettendo di aver offerto la candidatura a Raffaele Lombardo, che però avrebbe fermamente rifiutato.